Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi mercoledì 18 maggio all'Aquila dove una vettura finendo nel giardino di un asilo ha travolto un gruppo di bambini che stava giocando all'aperto secondo le prime informazioni nell'incidente avvenuto alla scuola dell'infanzia primo maggio all'Aquila almeno quattro bimbi sono rimasti feriti uno purtroppo in maniera grave sul posto sono accorsi immediatamente ambulanze del 118 e vigili del fuoco sul luogo dell'accaduto anche polizia carabinieri e vigili urbani a cui spetta il compito di ricostruire i fatti e le responsabilità secondo una primissima ricostruzione ancora da confermare l'auto era parcheggiata in una strada in discesa quando per motivi da accertare si è messa in marcia prendendo sempre più velocità così sì 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 sì